uè non fare il babbo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyudarone da ye bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda gli ultimi giorni di fortnite oramai siamo arrivati alla fine dell'anno ci aspettiamo dei grandissimi propositi per il 2020 che sarà sicuramente un anno cruciale per epic games e per ovviamente la sua punta di diamante fortnite sarebbe il terzo anno del videogioco che rimarrebbe sulla cresta dell'onda qualora riuscissero a mantenere bello dinamico il gameplay le novità sempre fresche e ovviamente cercare di soddisfare al meglio la community noi ce lo auguriamo speriamo davvero di poter continuare a giocare per molto a questo bellissimo battle royale sono fiducioso che epic games ci regalerà grandi emozioni anche semplicemente nella season 2 di questo capitolo numero 2 nel video di oggi parleremo però del mini trailer che ieri è uscito e che va a riprendere una skin ancora non rilasciata in realtà questo video è fatto prima dello shop di oggi quindi potrebbe esserci ma il trailer davvero simpatico lo andremo a vedere parleremo però anche della fine di tutte le promozioni dedicate ai cellulari alle console che ovviamente si possono riscattare quindi le skin che verranno azzerate determinate promozioni non più riscattabili quindi molto attenzione ma ragazzi molta attenzione a chi decide ancora di vendervele non è più possibile acquistarle e easter egg ci sono due easter egg interessantissimi recuperati dentro la mappa in game quindi potete andare a vederli anche voi che ci danno delle indicazioni interessanti sulla storyline di questo capitolo 1 di fortnite season 1 capitolo 2 di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno restano a farmi compagnia e passano a salutarmi in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro supporto grazie mille a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video prima è la domandina ve la devo fare raga ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi molto personale ma davvero molto molto easy qual è secondo te la migliore arma o comunque il miglior oggetto rilasciato in questi giorni del winterfest fuori magazzino ovviamente ne abbiamo viste tantissimo le doppie pistole l'arco hanno messo la pistola silenziata hanno messo le sticky bomb hanno messo le granate esplosive hanno messo il barret la deagle qual è secondo te l'arma più bella che c'è stata in questi giorni la mia ragazzi dai è scontato per chi mi conosce non poteva che essere il caro barrettone ragazzi veramente un'emozione poterlo riutilizzare nel battle royale mi sono divertito davvero tanto nelle partite che ci ho fatto tanta roba ditemi qual è la vostra preferita qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e non parte il coso e mando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare delle spade laser light saber in inglese ragazzi queste spade laser fanno parte dell'evento di star wars sono state recuperate sono tuttora in game e devo dire che cominciano a dare abbastanza fastidio se già non l'hanno fatto nei giorni precedenti sappiamo tutti si recuperano nelle scatole nelle forzieri blu c'è una particolarità sappiamo che parano 90 colpi consecutivi dopo di che l'effetto di difesa automaticamente si ferma e quindi l'avversario può essere colpito c'è da dire che però non è possibile a meno che non venga attaccato in due sparare tutti quei colpi ragazzi abbiamo finalmente una data per tutti quelli che mi chiedono quando le tolgono quando le tolgono quando le tolgono anche io vorrei che le togliessero beh ragazzi le spade laser verranno rimosse il giorno 7 gennaio giorno 7 gennaio che dovrebbe anche essere appunto il giorno del downtime della patch 11.40 che si spera porti una bella ventata di aria fresca eliminerà tutto il discorso winterfest e il periodo natalizio e comincerà a proiettarci ovviamente nel futuro nella season 2 di fortnite e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi vi lascio al trailer molto divertente che è stato rilasciato proprio nella pagina ufficiale di twitter di fortnite e che ci mostra la nuova skin davvero molto molto simpatico il lorso polare che tra l'altro c'è stato anticipato con lo spray vinto nella challenge di ieri del winterfest un'immagine davvero divertente tanta roba dovrebbe essere uscito proprio oggi nello shop spero che sia così comunque sappiamo che la rarità è epica e che arriverà ovviamente in questi giorni e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi eccole qua interessantissima una teoria che sto per illustrarvi alle mie spalle vedete tutte le armi rilasciate in questo winterfest sono veramente tantissime e sono armi che per chi gioca a fortnite da molto tempo non sono affatto nuove anzi le amiamo davvero tantissimo c'è una teoria però molto interessante che in questi giorni viene un pochettino messa alla luce dai vari leakers e commentato ovviamente dai vari utenti e qualcuno di molto importante dice fortnite sta riportando un'arma alla volta in questi giorni perché vorrà vedere qual è l'arma che è stata più utilizzata dagli utenti per eventualmente rimetterla ufficialmente in game e non è assolutamente sbagliata questa cosa se pensiamo che è già stata spoilerata da almeno un mese e mezzo il nuovo fucile d'assalto pesante che ancora non è stato rilasciato magari hanno voluto fare un passo indietro e hanno preferito dare la possibilità ad una di queste armi di rientrare in game io credo che valga la pena di inserire adesso una nuova arma visto che oramai abbiamo tutti perso le speranze per l'arrivo di un veicolo o per la reintroduzione delle jump speriamo che sia veramente così di solito quando un argomento è ben visto dalla community epic games tende a soddisfarlo quindi incrociamo le dita se fosse per me io l'ho già detto rivolrei il barrett e arriviamo all'ultimo argomento di oggi ragazzi innanzitutto non ho tempo di parlarvi della fine delle promozioni ma mi raccomando ve lo dico così molto velocemente non si potrà più acquistare la wonder, la glow, la ion, il royal bomber e ce n'è pure un'altra che deve essere il bundle del ragno oscuro non è più possibile ottenerle già scaduta anche la promozione dell'iconic quindi mi raccomando occhio chi vi cerca di vendere skin no perché non è più possibile ottenerle volevo solamente farvi vedere un easter egg molto rapidamente siamo ancora alla schermata di caricamento della gente del caos che abbiamo ormai capito tratti molto interessantemente della storyline che ci aspetterà nella season 2 beh ragazzi guardate molti dicevano che in questo capitolo fortnite era in un universo parallelo invece no e ce lo fanno capire queste due immagini la prima è proprio il quadretto che c'è nel punto più alto della mappa in questa abitazione dove si vede chiaramente un quadro raffigurante i vecchi magazzini moffiti se invece andiamo nella parte più in basso della mappa in quell'isolotta gigante proprio a sud c'è un altro quadro che ci mostra invece il cratere quindi possiamo escludere completamente di essere tutti in una grande illusione creata dal buco nero siamo proprio in un altro capitolo beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao